Grazie a tutti, grazie alle famiglie che mi hanno seguito e hanno risposto veramente con il cuore al nostro messaggio, messaggio per aiutare i bambini ucraini innanzitutto e le loro famiglie. Oggi stiamo continuando con la raccolta medicinali e quant'altro può servire per il popolo ucraina che stanno veramente attraversando un periodo molto difficile. Spero tanto di avere ancora forza per portare avanti i nostri progetti di accoglienza. Grazie di cuore a tutti. Si è svolta questa mattina a Palazzo Paronale la cerimonia di consegna di una medaglia in merito a Nicola Florio, presidente dell'Associazione Uniti per la Vita e promotore negli anni di una continua e costante attività sul territorio vesuviano a favore del popolo ucraino. A consegnare il prestigioso riconoscimento da parte della comunità ucraina, il sindaco additore del greco Giovanni Palomba ha la presenza della consigliera comunale Carmela Pomposo di alcuni componenti dell'Associazione Uniti per la Vita e del gruppo ucraino. L'associazione del presidente Nicola Florio ha voluto dargli una croce al merito per tutto quello che ha fatto per i bambini dell'Ucraina. Ricordo che lui è stato il primo a mettersi quando ormai è quasi un anno quelle brutte notizie che arrivavano dei bombardamenti e lui ha cercato di essere vicino al popolo ucraino immediatamente. Quindi le signore dell'associazione gli hanno tributato questo merito e giustamente è qui nella casa madre al Palazzo Baronale. Consegniamo per noi molti premi importanti perché tra l'altro oltre al compleanno del nostro presidente è quest'anno che compie 30 anni l'associazione che lavora costantemente da quanto è scoppiato il Chernobyl e ovviamente non ha smesso, ha colto sempre i bambini di nostro paese sul territorio italiano e lavora costantemente con un'altra associazione ucraina che si chiama Sdarovie e questo regalo l'hanno pensato di fare loro a presidente ovviamente per difficoltà andare lui in Ucraina e loro venire qua ci hanno delegato a noi a consegnare questo premio. Il presidente merita tantissimo questo premio perché è una persona davvero buona e soccorsa dal primo momento per aiutare il popolo ucraino, i bambini e le loro famiglie e ci ha dato questa opportunità a noi mamme, questa meravigliosa opportunità di accogliere i bambini ucraini che lo rifaremo altre mille volte e l'unica cosa che noi adesso speriamo è che la guerra finisce presto e che il popolo ritorni di nuovo a vivere. Il presidente è una persona meravigliosa, grazie a lui abbiamo potuto soccorrere da subito diversi bambini purtroppo destinati alla guerra. Quindi noi ci auguriamo che finisca domani mattina ma che soprattutto questi bambini che sono ancora con noi possono avere un futuro, futuro migliore senza guerra.